Tra le misure proposte per implementare la sicurezza cittadina nella mozione presentata dai consiglieri di centrodestra nell'ultimo consiglio comunale è tornato ad essere centrale il tema del vigile di quartiere. La proposta, bocciata con 18 voti contrari a fronte dei 9 favorevoli e dei 4 astenuti, ha visto le forze di maggioranza e quelle pentastellate sottolineare le difficoltà nel chiedere un maggior impiego del personale operativo e la necessità di adattare l'organizzazione del progetto alla realtà cittadina. Una proposta, quella del vigile di quartiere, che come spiega Michele Redaelli, consigliere di Forza Italia tra i firmatari della mozione permetterebbe ai cittadini di avere punti di riferimento per segnalare disagi e problematiche delle diverse aree urbane. Il vigile di quartiere è una battaglia storica che portiamo avanti e che prevede la presenza di persone delle forze dell'ordine che siano fra le persone. Questo permetterebbe di realizzare una rete di territorialità, una rete di sicurezza che sia capillare, che sia con persone, con uomini e donne delle forze dell'ordine, che siano fra le persone nelle strade che vivano la situazione del quartiere e che percepiscano e che capiscano le problematiche delle persone stando all'interno di queste situazioni. E così facendo diventerebbero anche interlocutori certi privilegiati anche nei confronti delle persone che così possono fare segnalazioni, possono chiedere rispetto ad alcuni dubbi. Bene, ora in questo momento a Pesaro esiste il vigile di quartiere, ma di fatto si tratta di una sorta di sportello dove si possono fare delle segnalazioni, uno sportello che è attivo per poche ore la settimana in alcuni quartieri. Purtroppo questa mozione è stata bocciata da questa amministrazione. C'è stata anche una vittoria in Consiglio Comunale, cioè che mentre per tanti anni questo argomento è stato un tabù e perché la sinistra non ha mai voluto sostanzialmente affrontarlo. In questo momento nella discussione in Consiglio Comunale nessun consigliere, neanche di maggioranza, si è dichiarato contrario. Anzi tutti abbiamo sostenuto l'importanza di questa figura. Il motivo per cui noi continueremo con questa battaglia, continueremo a incalzare l'amministrazione sul tema del vigile di quartiere e soprattutto della sicurezza a 360 gradi. Tra i sostenitori è anche Anna Renzoni del coordinamento comunale di Forza Italia. Il nostro pallino è quello di avere una vigilanza nei quartieri, di un vigile che conosca tutti gli abitanti del quartiere, che possa girare per le vie, che conosca le vie, che sia presente sul territorio e che noti anche le anomalie. Il vigile di quartiere deve essere un deterrente naturalmente, non deve fare lo sceriffo, deve essere un deterrente per la criminalità e deve vigilare, come dice il nome, vigile o polizzato di quartiere. Che dire, questa battaglia l'ho proposta in Consiglio Comunale nel 2004, poi l'ho riproposta ancora, pochi anni fa, quando ero in Consiglio Comunale lo stesso, però non sono mai stata ascoltata dalla sinistra purtroppo. La sinistra è molto disattenta, sottovaluta il problema. Tante volte abbiamo chiesto l'aiuto anche della maggioranza e mi fa piacere che nel centro-destra abbia rispolverato questa cosa del vigile di quartiere, perché, credetemi, è importantissimo. Favorevole in merito anche l'opinione di alcuni cittadini, secondo cui la marcata attività di controllo nei quartieri aumenterebbe la sicurezza di alcune zone. Per quanto riguarda la zona di Villa San Martino, dove abito io, sicuramente incremento il discorso dei vigili, sì, soprattutto nelle zone e nelle aree verdi, sicuramente è importante. però devo dire che tutto sommato viene gestito abbastanza bene, credo, questa cosa, però un incremento sicuramente non fa male, senz'altro. E se come si faccia quando vai? Sì, abbastanza, sì, ma io la sera esco poco, spesso sto a casa, però certo più sicurezza c'è, meglio sia per le donne che anche per i bambini. Le telecamere ci vorrebbero dappertutto, sarebbe una cosa molto buona. Sì, meglio più ce ne sono e meglio è, secondo me. Io abito alla zona Cinque Torri, alla notte servirebbe che si gira parecchio, perché là ci sono stati anche parecchi larghi in giro. Se ci fosse qualcuno che gira di più, si sentono un po' più osservati o osservano meno. È un maggiore deterrente verso anche i ragazzini, le bande di ragazzini, diciamo. Qualche anno fa c'era anche il carabiniere di quartiere, di quella di là. Poi qualche anno fa li hanno ritolti, io penso sempre per questione di organico, perché se sono nel quartiere non sono in strada o ad agire in altri ambienti. Se ci fosse più personale sono convinto che si potrebbe controllare meglio la situazione nei vari quartieri della città.